Alcuni giorni fa Gerardina trovato ha accusato pubblicamente Barbara D'Urso per una vecchia intervista. Arriva la smentita. Alcuni giorni fa la cantante catanese Gerardina, trovato ha accusato Barbara D'Urso durante un'intervista di non averla lasciata parlare quando fu intervistata al suo programma live non è la D'Urso nel 2020. La risposta della conduttrice partenopea non è tardata ad arrivare per smentire le dichiarazioni dell'artista. Gerardina trovato alcuni giorni fa ha realizzato un video su TikTok, in cui ha chiesto ai suoi fan di starle vicino in un momento di grande difficoltà. In pochi minuti il filmato è diventato virale, e ha scatenato un'ondata di affetto nei suoi confronti. Da quel giorno la cantante catanese ha rilasciato diverse interviste. In una di queste ha accusato la conduttrice Barbara D'Urso che l'aveva ospitata a live non è la D'Urso nel 2020. Barbara D'Urso, la risposta alle accuse di Gerardina, trovato, pubblica il video. Secondo Gerardina la conduttrice partenopea le aveva fatto raccontare la sua situazione a partire dai problemi di salute a quelli economici. L'artista aveva difficoltà a tornare a fare musica, in quanto era stata dimenticata. L'ultima sua apparizione televisiva era stata proprio nella primavera del 2020 a live non è la D'Urso in un servizio dedicato agli esclusi di Sanremo. All'epoca aveva ringraziato la conduttrice partenopea, negli ultimi giorni l'ha attaccata pubblicamente definendo una, minciata, essere stata sua ospite. A quella trasmissione ero andata per dire ben altro. Avevo scritto la mia storia in un libro, e Barbara non mi ha fatto dire una parola. Ha cominciato dicendo tutto lei, e quando sono arrivata mi avesse fatto dire mezza cosa. Tutte min asterisco iate e su minca asterisco iate. E' stata tutta una gran minchi asterisco ta' esserci andata. Avevo bisogno di dire molto altro, cose che mi venivano dal cuore. E invece mi è stato impedito. Nonostante Barbara non sia solita rispondere alle accuse in questa occasione ha voluto dire la sua Gerardina trovato pubblicano i video in questione della sua ospitata a live non è la D'Urso. Nel servizio la cantante catanese descriveva l'aiuto della padrona di casa, come, un sogno. Inoltre viene mostrata la sua nuova casa che le era stata donata da un benefattore dopo averla vista in tv. L'autore della storia commentava sostenendo che, in passato solo Barbara D'Urso ha provato a darle visibilità e ad aiutarla. vicepartenopea ha pubblicato un'altra parte del video scrivendo Ed oggi come allora, forza Gerardina!